Ho voluto valorizzare il patrimonio di rilievi assiri che il museo aveva acquisito nell'Ottocento nell'idea di un museo di caratteristiche mondiali e quindi associando questi pezzi ad altri pezzi che provengono dal British si è realizzata una mostra sensoriale dove si valorizza il tema della vista ma anche dell'olfatto, vedrete profumi d'incensi, sentirete ricostruzioni di battaglie ma soprattutto è un tema che fa riflettere sulla condizione del Medio Oriente in questo momento che insieme al tema del Mediterraneo è così pressante per la nostra comunità europea.